L'emergenza coronavirus si sfiora nei 4000 contagi in regione mentre cresce il numero delle vittime. 132 i positivi del bollettino ma con un numero di tamponi inferiori rispetto ai giorni precedenti. E intanto all'ospedale San Carlo di Potenza è stato predisposto un nuovo reparto covid che potrà ospitare fino a 26 pazienti meno gravi. Da domani entra in vigore l'ordinanza di Bardi che ha disposto la chiusura delle scuole ma è subito polemica. Dal lancio al governo nazionale piovono le critiche sulla scelta del governatore Lucano e non mancano i malumori di molti genitori. Presidio dei lavoratori della Garramone davanti ai cancelli dell'azienda dell'indotto Eni in cassa integrazione dal 10 marzo scorso agli operai. La società ha comunicato il passaggio degli ammortizzatori sociali a zero ore. In chiusura c'è la pagina sportiva con il K.O. del Potenza a Vibo Valencia e anche le gioie del CMB nel calcio a 5. Buongiorno dalla nuova TG. In primo piano c'è l'emergenza covid. Si sfiora quota 4.000 casi in Basilicata. Cresce il numero dei positivi in regione e purtroppo anche quello delle vittime. L'aggiornamento con Michelangelo Russo. Sette decessi tra ieri e oggi fanno salire al 97. Ormai il dato delle vittime covid dall'inizio della pandemia. Tre ne sono stati accertati al Donuva. Una 85enne proveniente dalla casa di riposo di Lavello. Una 91enne di Avigliano che invece era ricoverata nel reparto Alzheimer ed un 74enne di Potenza. Al Madonna delle Grazie si è spento un Materano ed un 66enne di Ferrandina. Mentre a San Carlo non ce l'hanno fatta due anziani di Brienza e Marsico Nuovo. Ieri sera anche il comune di Calvello aveva dato notizie della morte di due signore. Una delle quali ospite della casa anziani oggetto di un focolaio. Mentre nel pomeriggio si era preso della morte di un 97enne di Sanfele e di un 90enne di Potenza. Entrambi morti nelle proprie abitazioni. Negativi anche i dati che riguardano gli accessi ospedalieri. Nonostante quattro decessi il numero dei ricoverati non cambia negli ospedali. E ci sono quattro degenti in più nelle terapie intensive. Intanto oggi solito brusco calo di tamponi processati. Appena 836 e incremento di 126 positività. Matera continua a registrare il più alto numero di casi giornalieri. Oggi ne sono 27. Seguono Melfi con 14 e Lavello con 13. Quindi Potenza con 10 positività nuove. A Lauria ne sono state accertate altre 11. Sarebbero tutti sintomatici e legati ad altri casi precedenti. Ora sono 100 i positivi e L'Amboglia sta valutando ulteriori provvedimenti da porre in essere. Ad Accettura il sindaco Vespe ha invece deciso di chiudere gli uffici comunali al pubblico. Infine le buone notizie. Sono tutti negativi i tamponi effettuati sui bambini della scuola dell'infanzia di San Giorgio di Pietragalla. E ci sono 18 guariti. Sette dei quali a Sant'Arcangelo. Quattro a Moliterno. E intanto all'ospedale San Carlo di Potenza è stato predisposto un nuovo reparto Covid che potrà ospitare fino a 26 pazienti meno gravi. Ce ne parla Fabrizio Di Vito. Da settimane la pressione sugli ospedali lucani causata dall'emergenza coronavirus continua ad aumentare. Pertanto all'ospedale San Carlo di Potenza è stato individuato un nuovo reparto Covid. Sarà tecnicamente una pneumologia a bassa intensità dedicata a pazienti Covid meno gravi che necessitano esclusivamente di ossigenazione o di ventilazione esterna. Insieme alla riattivazione dell'ospedale di Venosa, sempre per i casi meno gravi, il nuovo reparto del nosocomio Potentino consentirà di affrontare meglio questa intensa seconda ondata. L'inaugurazione del nuovo reparto è avvenuta alla presenza del commissario dell'azienda ospedaliera regionale Giuseppe Spera. Un altro ampliamento dell'ospedale dedicato al Covid, a garantire assistenza al Covid nell'ambito della pneumologia. Qui verranno anche pazienti che hanno problemi di respirazione e che dovranno fare eventualmente ossigenazione o ventilazione esterna, ventilazione non invasiva. Mi lasci ringraziare tutta questa azienda che sta dimostrando in questa vicenda la sua grandezza nei reparti che stanno affrontando sempre più numerosi i pazienti Covid, ma anche negli altri reparti che stanno garantendo l'ordinario, sacrificando anche personale per farlo confluire nei reparti Covid. Non solo dall'ospedale San Carlo, ma anche dai presidi che appartengono all'azienda. Già in giornata i primi trasferimenti di pazienti affetti da Covid nel nuovo reparto, mentre questa sarà l'organizzazione sul fronte dei posti letto disponibili. Sono 16 già attivabili immediatamente, nel giro di qualche giorno si amplierà il reparto fino a 26 posti letto. Questo ovviamente porterà sul numero totale di posti letto in subintensiva a 92, che si vanno ad aggiungere ai 30 posti di terapia intensiva. Quindi diciamo un ospedale nell'ospedale. E intanto crescono i contagi. In FCA l'azienda ha comunicato a breve ai sindacati sette nuovi casi di positività al coronavirus, per un totale che ammonta a 85 positivi. Il Covid colpisce anche i giovani, non solo gli anziani, e il messaggio testimonianza ha lanciato ai ragazzi e non solo dal giovane studente lucano a Roma. Cristian Forestiere, originario di Latronico, ricoverato da 10 giorni all'ospedale Filippo Neri di Roma, il 24enne aspirante medico, è da pochi giorni fuori dalla fase più critica della malattia, ma con un post sui suoi profili social, ha raccontato ai follower la sua brutta esperienza. Sono al nono giorno di ricovero e ancora di dimissioni, non se ne parla nemmeno lontanamente, però bisogna che si sappia che questo virus è una bestia e colpisce tutti. Ho 24 anni, non ho mai avuto mezza malattia, mai neanche fumato. Cristian, uno studente di medicina a Roma, avrebbe dovuto laurearsi a breve, probabilmente ha contratto il virus, nella sua attività di tirocinante in un policlinico universitario della capitale, intanto in paese tutti tifano per lui. Scuole chiuse da domani, ma non senza polemiche, dal lancio al sottosegretario Liuzzi, piovono critiche per l'ordinanza del presidente Bardi. Ce ne parla Celestino Benedetto. La chiusura delle scuole con l'ordinanza del presidente Bardi ha scatenato polemiche ed invettive. Cosa non facile da digerire, specie se si è genitori, si lavora non in smart working e non si sa a chi affidare i propri figli. La settimana scorsa il governatore aveva preso tempo, pur propendendo per lo stop, ma i numeri crescenti del contagio, secondo la task force quintuplicati in ambito scolastico, non lasciavano molte alternative. Chiudere per un periodo limitato, spiega Lanci di Basilicata, e fare i test antigenici per evitare chiusure sine die, ma bisogna utilizzarli in maniera massiccia per poter ripartire subito in sicurezza, e questo lo abbiamo detto dall'inizio e non sappiamo perché non si metta in moto questo processo. Anche perché, spiega Salvatore Adduce, ci giungono notizie che sarebbero stati inviati e sarebbero disponibili nella nostra regione, tali test rapidi antigenici da distribuire ai medici di base e ai pediatri, ma ad oggi nessuno si sta preoccupando di fornire notizie e informazioni sulle modalità di distribuzione ed utilizzo. Critica anche l'onorevole Liuzzi, che parla di azione non prevista in una regione attualmente arancione. Nulla vieterebbe ai ragazzi di essere in giro, è prevista didattica a distanza solo nelle zone rosse o in caso di quarantene obbligatorie. Probabilmente sarebbe stato opportuno da parte della regione riflettere su questo piuttosto che fare un'ordinanza molto discutibile e che da martedì metterà in crisi tante famiglie lucane. E sulla chiusura delle scuole intervengono i due deputati lucani, De Filippo e Caiata, da nord a sud i presidenti di regione, continuano a sconfessare un inconcludente ministro, evidenzia il segretario di Fratelli d'Italia a Basilicata. Chiudono le scuole proprio in queste ultime ore, quelle della Basilicata, un'offesa alla nazione e alla cultura, all'istruzione che la ministra Azzolina non è stata capace di scongiurare. Essendo la scuola la più grande emergenza insieme a quella sanitaria, sottolinea invece l'ex presidente della regione, Vito De Filippo, pretenderebbe la più grande delle attenzioni. Si doveva e si deve garantire la massima sicurezza a personale scolastico, docenti, alunni e famiglie. Si poteva fare prima e meglio in alcune regioni. Si è fatto tardi e male, in altre non è stato fatto quasi nulla, come in Basilicata. Dalla scuola all'economia, le ripercussioni delle misure di chiusura delle attività, soprattutto sui due comuni lucani di Irsina e Genzano, ex zona rossa, continuano ad avere effetti negativi sull'economia. Se ne sta occupando il senatore lucano Pasquale Pepe. Genzano e Irsina, dove è stata disposta la zona rossa lo scorso 3 novembre dal presidente della regione, hanno bisogno del sostegno delle istituzioni per poter ripartire e superare difficoltà economiche. Per questo motivo ho lavorato ad un emendamento al decreto legge Ristori che proporrò entro oggi con l'obiettivo di far destinare fondi specifici alle casse municipali di tutti i comuni in queste condizioni. Le amministrazioni comunali, aggiunge Pepe, devono essere sostenute per ovviare alle inevitabili mancate entrate tributarie, visto che le economie di questi due centri lucani sono state penalizzate dall'inattività forzata per contrastare la diffusione del Covid-19. Adesso bisogna garantire trasferimenti finanziari supplementari affinché i servizi per i cittadini non vengano penalizzati da un inevitabile minor gettito fiscale e al fine di garantire l'assistenza alle categorie più colpite. E adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A fra poco. Grazie a tutti. Piscine Castiglione dal 1961, eccellenza italiana. Rivolgiti al nostro concessionario ufficiale. 7136-918-339-6944-620. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG con l'ennesimo episodio di violenza su una donna. A Matera la polizia ha arrestato in flagranza di reato due fratelli di nazionalità indiana di 32 e 42 anni per lesioni e i danni della moglie del primo. Dopo la segnalazione al 113 della donna, gli agenti sono intervenuti rintracciandola per strada, dolorante. La giovane, anche la indiana, ha riferito di essere stata picchiata in casa dal marito e dal cognato. Il marito è stato subito rintracciato presso l'abitazione. Nella dimora sono stati rinvenuti e sequestrati due bastoni di legno usati per l'aggressione e l'uomo è stato portato in questura. La donna, accompagnata al pronto soccorso, ha riportato traumi in diverse parti del corpo con una prognosi di 25 giorni. Voltiamo pagina con la cronaca sindacale. Un'altra vertenza si è aperta nell'area industriale di Vigiano ad essere coinvolta, questa volta in la Garramone. Da questa mattina, davanti ai cancelli dell'azienda dell'Indotto Eni, sette lavoratori hanno inscenato un presidio permanente di protesta e lo sciopero della fame. Sentiamo le ragioni nel servizio di Mairolino Targiacomo. Oltre ai sindacati, anche altri colleghi sono scesi al fianco dei sette lavoratori della Garramone S.P.A. in presidio permanente davanti ai cancelli dell'azienda dell'Indotto Eni, nell'area industriale di Vigiano, in sciopero della fame. In cassa integrazione dal 10 marzo scorso a questi operai, che sarebbero dovuti rientrare al lavoro a rotazione, la società ha comunicato il passaggio a degli ammortizzatori sociali a zero ore, che per loro significa non recarsi più in azienda. Il sospetto è che tale passaggio rappresenta il preludio al licenziamento, una prospettiva contro la quale i lavoratori si stanno opponendo, ma che a quanto pare sembrerebbe inevitabile. Dal 10 marzo noi siamo in gas integrazione. Con vari accordi sindacali con l'azienda dovevamo fare a rotazione, che a oggi non viene più rispettata, mandandoci una raccomandata che dal 13 novembre siamo in gas integrazione a zero ore. L'avvertenza aperta alla Garramone, azienda che si occupa del trattamento di rifiuti industriali e dello spurgo dei pozzi, con all'attivo un centinaio di lavoratori, riguarda numerose altre aziende dell'indotto, che coinvolte nella riduzione delle commesse da parte di Eni o nei cambi di appalti gestiti dalla multinazionale, si vedono costretti a ridurre l'organico. Questi lavoratori sono coloro che purtroppo devono pagare in osservanza il raggiro da parte di Eni, di Convindus e Basilicata, di quelle regole che sono alla base della questione petrolio in Basilicata. Oggi chiediamo da qui, da questi cancelli, in maniera sommessa, attraverso la voce di tutti i lavoratori, che la questione petrolio, per favore, presidente della regione Basilicata, ci dia una mano a risolvere realmente la questione petrolio in Basilicata. Come? Riportando Eni al tavolo in regione, dove Eni ci deve spiegare come vuole andare avanti, cosa significa e come bisogna salvaguardare i livelli occupazionali. Oggi abbiamo miseria, abbiamo gente che perde il posto di lavoro dalla sera alla mattina. Dobbiamo essere onesti con i lavoratori. Se non c'è più, se ne è saltato il compromesso politico del lavoro, glielo dobbiamo dire chiaro a tutti i lavoratori. Altrimenti queste vertenze, che sono già partite da giugno, la vertenza Nicola, la vertenza Mesca, la vertenza Officine d'Andrea, la vertenza Ram, Termomeccanica e ultima questa qua di Carramone, non troveranno una propria seduzione. Chiediamo che l'azienda ritira una cassa integrazione unilaterale, senza accordo, senza comprondo. Quindi chiediamo che si riapra un comprondo nel rispetto di tutti, nel rispetto delle regole e chiediamo che il Presidente Bardi convoca al più presto il tavolo della trasparenza, affinché si affrontano tutte le criticità che in questi mesi stanno emergendo per l'indotto Eni e soprattutto per questi lavoratori che rivendicano il diritto all'occupazione e il diritto al lavoro. C'è un'ultima questione fatta valere da Eni nei tavoli condotti in precedenza e avvallata da Confindustria, ed è quella che vede la società petrolifera in attività in regime di proroga e in attesa della concessione mineraria, questione quest'ultima che con quella della pandemia viene tirata in balo dagli industriali proprio al fine di giustificare la crisi occupazionale nell'indotto. E solidarietà ai lavoratori in sciopero della fame arriva dal segretario della Fium CGL di Basilicata, Gaetano Ricotta. Da tempo denunciamo come categoria dei metalmeccanici la messa in discussione delle tutele del patto di sito, evidenzia il segretario, un patto che sta generando forti criticità rispetto alla tenuta dei livelli occupazionali nelle attività terziarizzate da Eni. Non ascoltare i lavoratori, conclude il segretario, che in questa fase arrivano ad esercitare forme di lotta così estreme, è sbagliato e il protrarsi di questi atteggiamenti di non risposta produrrà guasti irreparabili. Voltiamo pagina, esiste un luogo a potenza dove si possono lasciare indumenti per chi ne ha bisogno. Chi ne ha necessità può prenderli a qualsiasi ora del giorno e della notte e il muro della gentilezza che inaugurato in estate al parco di Montereale ora potrebbe essere dismesso. Sentiamo, Lucia Petrafesa. Se non ti serve lascialo, se ti serve prendilo. Sul muro della gentilezza al parco di Montereale a Potenza si possono lasciare indumenti che non si usano più e metterli a disposizione di chiunque ne abbia bisogno. Chi ne ha necessità può prenderli. Il muro è stato inaugurato in estate e le richieste di aiuto aumentano di giorno in giorno. La povertà è in aumento e soprattutto le richieste arrivano dai paesi e dalla contrada e dalla città. Sono tantissimi, portiamo anche in sede l'associazione SMAC perché si può avere anche la possibilità di contattarci telefonicamente come già sta succedendo. Approfitto per fare un appello alla comunità per dire che questo muro non è una discarica a cielo aperto. Quindi vi chiediamo di portare roba in buone condizioni e non padelle piuttosto che capi rotti, indumenti strappati o scappe rotte. Purtroppo non sono mancati in questi mesi atti vandalici. Non si rendono conto che fanno del male solo alla comunità perché quando succedono di queste cose come trovare degli escrementi di animali dentro il bidone dove c'è roba dobbiamo solo buttare tutto, anche roba con i cartellini, quindi roba nuova. Un appello infine alle istituzioni affinché l'iniziativa possa andare avanti. Con l'arrivo dell'inverno infatti il muro rischia di essere dismesso. Già all'inizio quando mi sono rapportata con l'assessore alle politiche sociali del Comune di Potenza avevo evidenziato questo problema. Quindi si era pensato di trovare ovviamente una location al chiuso per continuare questo servizio che, sottolineo, ripeto, sta funzionando tantissimo. Spero insomma, anzi rifaccio l'appello di venirci incontro perché se le istituzioni non ci vengono incontro ovviamente quest'inverno con la neve e la pioggia, la roba, si bagnerà dovremmo, saremo costretti a buttarla via e quindi conviene che il muro viene dismesso insomma, non ha più senso. Questo è un simbolo, il muro della gentilezza, ma attorno ai simbolismi deve partire tutta una rete, deve partire tutta un'organizzazione. È vero che noi associazioni ci spendiamo tanto per la comunità, però abbiamo bisogno che le istituzioni ci supportano. Falsifica un testamento. La Corte d'Appello di Potenza conferma la condanna a nove mesi di reclusione del materano Francesco Paolo Tataranni. L'infermiera in pensione di Matera fu accusato in primo grado di falso intestamento lograco ai danni degli eredi universali di un uomo dipomarico deceduto il 10 giugno 2013. Tataranni fece redare a Matera l'8 aprile 2013 il falso testamento con la sua nomina ad erede universale di tutti i beni. E adesso passiamo allo sport. Nel servizio di Luigi Santopietro riviviamo il fine settimana sportivo. Dal K.O. del Potenza a Vibo Valencia alle gioie del calcio a 5. Vediamo. Il Potenza non si rialza. La gara di domenica con la Vibonese doveva essere quella del riscatto dopo il K.O. con il Bari e invece i rosso-blu tornano a casa con una nuova sconfitta che regala in dote diversi aspetti negativi. Allo stadio Razza di Vibo Valencia si è vista una squadra senza idee e con poco carattere punita da un autogol di Fontana che rappresenta la perfetta sintesi di una squadra che continua a farsi male da sola. Ma non finisce qui perché il match con i calabresi pregiudica anche la gara di recupero di mercoledì con il Palermo in cui il Potenza dovrà fare a meno di consonne spulso nel finale e di Cianci diffidato e ammonito nel corso della partita. Il club si è chiuso nel silenzio stampa mentre i tifosi hanno manifestato il loro dissenso con uno striscione posto davanti ai cancelli del Viviani. Il weekend sportivo era stato caratterizzato dal rinvio della gara di volley in A2 in cui il Lago Negro avrebbe dovuto sfidare la New Mater Castellana, sestetto colpito dal Covid proprio alla vigilia del match. Bene, le squadre di calcio a 5 impegnate nei campionati nazionali. In Serie A pareggio spettacolo del CMB Matera che chiude 2-2 il match con la Kamedo Son grazie alle reti di Bijak e di Capitan Cesaroni. In A2 ritorna al successo il Bernalda che batte 6-1 la New Taranto in un match senza storia che premia i Lucani. Spettacolare anche la vittoria del Potenza in Serie B. I Rosso-Blu battono in rimonta e Leone Acerra con un goldoni super nel finale di gara. Un fine settimana da ricordare per il pugilato potentino si sono svolti a Taranto grazie all'impegno del maestro Salvatore Cupri i campionati regionali valevoli per la qualificazione alla fase nazionale del torneo pugilistico che si terrà nei prossimi mesi. Una manifestazione ufficiale della Federazione Pugilistica Italiana che vede la ASD Box Potenza quale unica palestra potentina accreditata a partecipare. L'ottimo lavoro svolto ha portato il potentino Cristiano Telesca a centrare un successo strepitoso. Telesca nella semifinale di sabato scorso ha avuto la meglio sull'atleta Tarantino, successo in semifinale che è stato preludio al trionfo di domenica. Nella finale contro Lorenzo Tatone della Pegasus di Matera, l'atleta della box di Potenza ha dimostrato consapevolezza e capacità di condurre l'incontro fin dalla prima ripresa. E per questa edizione è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata.